Volevo chiedere, in relazione al discorso che faceva prima, dove sei? Sì, qua, eccomi, sul dare più di quanto non si diceva. Volevo chiedere se secondo lei Russell Crowe, nonostante il grandissimo successo che ha ottenuto, è ancora un attore disposto a dare più di quanto non lo diceva e se è così, in che modo manifesta questa sua disponibilità? Grazie. Sì, credo che è uno di questi attori. Credo che sia incredibile. È un attore, è un ottimo da lavorare con. Sì, credo che ha una reputazione per essere un bambino. Non lo trovo. Penso assolutamente che lo sia. Credo che veramente sia un artista assolutamente generoso, pronto a dare e una persona con la quale è molto bello lavorare sul set. so che gode di fama non proprio buona quanto ha fatto di non essere una persona carina, una persona simpatica, però io invece non la penso così perché credo che sia una persona piena di attenzione, una persona riflessiva, una persona che rappresenta una sfida ma nel senso positivo del termine. Sul set è un piacere lavorare con lui, è sempre pronto e disponibile a dare. Abbiamo tempo per un'altra domanda, poi passiamo ai gruppi radio. Grazie a tutti.